Faccio una foto. Come? Oh, beh, sei quello di Photoplay, vero? Ah, National Geographic, veramente. Photoplay, sì. Buona fortuna. Il fatto non è che ci sono troppi stupidi, ma... che i fulmini non cadono dove dovrebbero. Esatto. È di Mark Twain. Per chi lavori? Sono il tipo di fotografo che prova a scegliersi i lavori. Oh, sì, dite tutti così. Faccio servizi fotografici per Life, Look, Ladysome Journal. Immagino che tu sia uno degli attori, direi. O vorresti esserlo. Tu suoni la conga? No. Io sono Jimmy. Dennis. Ehi, Jimmy! Oh, ciao, Nick. Ci sono persone a cui ti vorrei presentare. Sì, va bene. Va bene, va bene, ok. Faccio una piccola parte nel nuovo film di Kazan. C'è un'anteprima all'Electro domani mattina alle 11, se ti va a divenire. Sì, certo. Potremo incontrarci al Googies dopo. Jimmy, avanti. Jimmy, avanti. Sì, arrivo. Arrivo. Non avrai la parte se te ne stai qua fuori. forno. Non avrai la parte se te ha fuori. Mi, avanti. Non avrai la parte. E' il